pika 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 ciu pika ciuu pika ciuu pika pika ciuu oggi sono una casa che fa giocare trementi con pokémon ciao sono pikachu pokémon kemon non fermarti ma non fermarti la non sfideggia che vuoi affrontare antico è così non restare lì o pika 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 ciuu pika 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 ciuu pokémon kemon kemon tu sei campione ma non fermarti va non sfideggia che vuoi affrontare antico è così non restare lì o pika 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 ciuu come stai? io sto bene 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 è un pika ciuu non restare lì o pika pika ciuu